È stata inaugurata domenica in Piazza Carducci a Seravezza, alla presenza dell'autore, la mostra fotografica Crossroads, gli incroci del blues di Guido Rari. La preziosa raccolta fotografica, con un totale di 28 immagini in gran parte mai esposte prima, resterà fino al 31 agosto nel capoluogo, nella frazione di Querceta e nei borghi storici della Versilia, come Minazzana, Riomagna e Azzano. Una straordinaria collezione, messa a disposizione da parte di uno dei maggiori autori italiani, già fotografo personale di Fabrizio De Andrè e Lurid, che con il suo obiettivo ha immortalato alcune delle immagini icone della musica mondiale, come Neil Young, Bob Dylan, Carlos Santana, Bruce Springsteen, B.B. King e Frank Zappa. La scelta di queste 28 foto è nata da una condivisione di passioni e interessi fra Luigi Grasso, l'organizzatore della mostra, gli altri membri dell'associazione. È praticamente una mostra fatta su misura per il festival, che mi ha dato anche l'occasione di esporre delle foto che non avevo mai considerato, essendo una mostra a tema. Mostre come questa sono proprio l'occasione ideale per poter dar fondo ai piccoli gioielli dimenticati o meno dell'archivio, oltre ovviamente alle foto più note.